La Gaglia aveva provocato anche un fallo tecnico e quindi il Teleton è sotto adesso di un punto con un'azione di Jacopé, di un buon passaggio da parte di Walsh, per fare sì il carico di portare avanti la palla e poi scaricare ai. Jacopé si fa stoppare i suonocchini, per fare come la palla, l'Aveglia, passaggio fuori e fredda al Sartoro, il punto di passaggio per la Panasonic. È sicuramente un momento favorevole per la Panasonic, ma dobbiamo considerare anche che il Teleton ha in panchina Kukos che è sicuramente il giocatore che può fare per lei. Molto, questo riguarda bene, Panasonic, tre punti di passaggio, Panasonic.